Allora con Luca Scarenzi la soddisfazione di un esordio, anche due superparate nel finale. Sì, contentissimo veramente, non me l'aspettavo. Contro la seconda in classifica così serata perfetta, vittoria, abbiamo giocato tutti bene, abbiamo dato tutto il massimo, alla fine il mister ha deciso di darmi fiducia, di mettermi dentro, sono veramente contento. Poi qua sono qua di Novara, ci sono i miei amici in curva a cantare, bellissimo. Siete una vittoria che vale doppio, no? Perché adesso avete una serie di partite ravvicinatissime, tutto è scontillato a classifica. Sì, inizia un tour de force, andiamo a Montecchio mercoledì, sarà importantissimo dare un seguito a questa vittoria per poter scalare più posizioni possibili. Abbiamo comunque due partite in meno, tre anzi, sono state rimandate per motivi vari, quindi speriamo di far bene. Le carte Lazzura le ha dimostrate stasera, le ha tutte per giocarselo fino in fondo? Certo, certo, anche due settimane fa qua in casa abbiamo perso contro la prima in classifica ma solamente di un gol, avevamo tanta assenza anche noi, le carte in regola ci sono per poter sperare in grande, sperare di riportare Novara dove merita, in Serie A. Grazie.